ho attivato la funzione abbonamento sul canale youtube di psichiatri online italia in cosa consiste consiste in un modo alternativo di sostenere il nostro lavoro quelli che sono i costi della realizzazione del nostro dei nostri video e costa veramente poco sono 10 centesimi al giorno per potere mostrare la vostra come dire la vostra approvazione il vostro sostegno al nostro lavoro volontario sopra sopra internet e credo che sia un qualcosa di utile per avere la possibilità di godere dei servizi che abbiamo realizzato continuiamo a realizzare e con il vostro sostegno continueremo ancora di più a realizzare grazie per quello per quello che vorrete fare sostenendoci e abbonando e sto scrivendo questo piccolo abbonamento al nostro canale ciao